Un consiglio comunale senza il sindaco Antonio Tutolo quello che si è svolto lo scorso 27 settembre al Teatro Garibaldi di Lucera, in cui al punto relativo alle comunicazioni è stato trattato il tema che tiene banco da qualche settimana in città, vale a dire il progetto di Maia Rigenera che prevede la creazione di un impianto anaerobico in contrada ripatetta. Il consigliere di minoranza Fabio Valerio ha affermato che la questione si sarebbe dovuta affrontare prima di tutto in consiglio comunale, il quale consiglio avrebbe dovuto prendere una posizione in quanto organo votato dai cittadini e che dunque ha il dovere di rappresentarli. Il consigliere di minoranza Giuseppe Bizzarri invece ha affermato che la vicenda è stata gestita male dal primo cittadino e che sarebbe stato giusto informare la cittadinanza attraverso degli incontri pubblici con interventi di esperti nel settore. Infatti il sindaco di Lucera, dopo la bagarre creatasi su Facebook dove l'argomento è stato particolarmente dibattuto, ha deciso di abbandonare l'idea di una consultazione popolare e inviare direttamente il parere negativo alla provincia, accompagnandolo da motivazioni riguardanti la salvaguardia della salute pubblica e la non conformità urbanistica del progetto. L'amministrazione nel documento ha anche specificato che si riserva di avvalorare le motivazioni con relazioni tecniche, mentre il consigliere di maggioranza e delegato all'ambiente provinciale Giuseppe Pitta ha assicurato di vigilare sull'iter del progetto. La trattazione dei due punti all'ordine del giorno riguardante il piano sociale di zona invece è stata rinviata al prossimo consiglio. Ha approvato all'unanimità il punto relativo alla concessione incomodato d'uso gratuito dei locali siti in via Zuppetta 9 alla cooperativa sociale Silvana.